Mi chiamo Giambiero Vacelli dalla provincia di Benevento, Castelvenere. 10, visto che ho una cantina, la mia aspettativa di vita è fondata sul vino. Una professione, diciamo. Nasce perché mio nonno, fin dai primi tempi della sua vita, ha prodotto vino e quindi mi ha trasmesso questa passione. Ho tanti ricordi, ma nessuno in particolare mi viene in mente. Grazie a tutti.